Musica Volare sull'acqua, saltare e soprattutto divertirsi, ecco lo scopo di una giornata passata a Laghetto e Portici, sulla strada che da Bussolengo va alla Zise. Proprio qui Maurizio ed Emma, un ragazzo ed una bimba dolcissima, diversamente abili, hanno affrontato la loro esperienza con il wakeboard, uno sport nuovo, facile e non rischioso, parola di un esperto, Franco Zamboni, che ancora dopo 40 anni si emoziona a vedere il battesimo dell'acqua di Maurizio e i primi approcci con il wakeboard di Emma. Noi abbiamo avuto l'occasione alcuni anni fa di organizzare niente meno che i campionati italiani assoluti, sia delle discipline classiche anche per disabili, questo l'abbiamo fatto a Ronquallaggi, appena accorpata da qualche anno alla Federazione Italiana Scinautico, adesso riusciamo ad avere un numero enorme e quindi ci dedicheremo sempre di più anche ai diversamente abili. A Verona sono oltre 1500 normodotati e diversamente abili che si divertono con il wakeboard, così come ci ha raccontato Erkin Bosetto, papà di Emma, la quale sia attraverso l'azione dell'Associazione Sindrome Bambini Down Onlus, sia attraverso questo sport, ha fatto grandi progressi. Cosa vuol dire fare questo sport assieme alla propria figlia e aiutare anche questi ragazzi a vivere un'esperienza diversa? Beh, credo che sia una cosa importante, soprattutto per dare fiducia a questi ragazzi che insomma se lo meritano perché hanno tutte le potenzialità per poter fare anche loro lo sport come lo fanno tutti e diciamo che attualmente a Verona si sta creando una bellissima realtà, noi facciamo parte appunto di un'associazione sportiva, l'S di Laghetto Verde Wakeboard Club di San Martino Buonalbergo e stiamo lavorando per dare sempre più servizi anche alle persone diversamente abili e niente insomma venite tutti a provare a fare wakeboard o sci da o sci nautico insomma in generale con tutte le sue sfumature, tutte le sue discipline perché è una cosa bellissima e alla portata di tutti come potete vedere.